la situazione della pista ciclabile per così dire di fiumicino e ogni giorno peggiora la ciclabile di montino guardate che meraviglia pochi giorni fa c'era una scola resca una gita in bicicletta organizzata da una scola resca si sono scontrati con i pedoni che venivano in senso opposto caro montino è inutile che fai 22 che ti vanti di fare 22 km di piste ciclabili quando questi quattro chilometri non sei in grado di mantenerli di fare decespugliare l'erba che ci cresce intorno tutti i proclami di propaganda ecco qua questo è il risultato non c'è un cristiano che viene qua a tagliare l'erba ma siete patetici siete patetici ridicoli ridicoli 22 km ridicolo ridicoli 22 km di piste ciclabili portateci in gregge qua no le biciclette comunque i ciclisti fiumicinesi si stanno organizzando per fare una bella uscita su via goccia di morto a 5 km orari in mezzo alla strada così poi vediamo chi c'ha ragione bloccando il traffico ecco qua guardate che spettacolo guardate dovete capire che se una ruota finisce in mezzo alle foglie il ciclista vola per aria non è questione di estetica qui e quindi stiamo parlando di paesaggio o qui sia o ordine qui stiamo parlando di saputo incolumità dei ciclisti vergogna vergognatevi 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 di dire che ci avete vinto ci avete fatto 22 km di piste ciclabili vergognatevi quando passatevi a fare una strada donna Grazie a tutti.